Sono lì da decenni a troneggiare come inconfondibili torri industriali grigio-arancioni a guardia di quello che una volta era l'ingresso di Pesaro, poi inglobato dalla progressiva espansione della città. Ora invece i maxi serbatoi cilindrici della Fox Petroli sono in procinto di sparire, almeno per buona parte. Nei giorni scorsi è stato infatti presentato dalla Commissione Ambiente del Comune di Pesaro il piano da 50 milioni di euro che prevede la riconversione degli attuali serbatoi di deposito petrolifero in impianti dedicati allo stoccaggio di gas liquefatto. Un cambio di destinazione energetica presentato dai vertici della Fox Petroli che modificherà la vocazione industriale in una svolta più ecologica insostenibile in linea alle normative internazionali e al contempo riqualificherà e cambierà l'impatto visivo dell'intera area della Tombaccia. Dalla zona di Via Senigallia saranno eliminati 130 mila metri cubi di deposito petrolifero in favore di due linee di liquefazione del metano per 140 mila tonnellate di gas, non che saranno rimossi 15 mila metri cubi di depositi in favore di 2 mila metri cubi di stoccaggio gas. L'impatto visivo cambierà notevolmente, dai 15 serbatoi verticali attuali a 4 molto più piccoli e a 5 di dimensioni più importanti. Il sito attuale della Fox rientra tra l'altro nella realizzazione nazionale del gasdotto che transiterà sulla dorsale adriatica dalla Puglia fino al nord e collegherà il trattamento del gas liquefatto fra l'area di Via Gagarin e quella di Villa Ceccolini in cui si sta realizzando una stazione di pompaggio.